Oggi si parlerà del tipo di fisico al rettangolo, il bentornate e bentornati non mi piace da dire quindi entrerò direttamente col titolo, d'ora un po' e basta. Mi sento altrimenti tipo quelli che buongiornissimo, anche no, se siete qua siete tornati, quindi ovvio che siete bentornati, non è che vi voglio male. Anyway, oggi parliamo del tipo di fisico al rettangolo, quello da donna, quello da uomo l'abbiamo già fatto. Cosa ha questo tipo di fisico in particolare? Intanto che vi odiamo, perché vi sta bene quasi tutto quello che vi mettete addosso, va detto che come al solito quasi nessuno è contento col fisico che ha, mentre invece questo è uno dei tipi di fisico più diffusi tra le modelle, le top model, proprio perché appunto mi stanno bene un po' tutti i tagli di qualunque cosa, quindi se io devo fare un casting invece che stare a selezionare questa, quella, quell'altra perché magari questa c'è fianchi un po' troppo larghi, parliamo di modelle, quindi è sempre tutto molto largo per modo di dire e quest'altra magari ha un pelino più di seno, il rettangolo fondamentalmente è carta bianca, quello che metti va bene. Ma ciò vuol dire che quindi tutte le donne rettangolo sanno come vestirsi? Assolutamente no, altrimenti non ci sarebbe bisogno di questi tutorial, perché come forse ho detto, forse non ho detto ve lo dico adesso, non sempre è facile e non è automatico capire qual è il proprio tipo di fisico, anzi quello che io vedo con la maggior parte dei miei clienti è che non si ha idea di come sia il proprio tipo di fisico, soprattutto le donne mi capita ma tantissime volte di sentirmi dire io sono abbondante di fianchi, no, non li hanno neanche i fianchi a volte, hanno tutt'altro tipo di fisico, ma spesso ci si mette in testa, sai gli occhi ti vedono in un modo e è difficile allontanarsi da quell'idea, quindi se tu ti vedi con una forma diversa, ovviamente ti vai a vestire cercando di adeguarti per quella forma, ma se tu ti vedi in maniera sbagliata andrai anche a vestirti in maniera sbagliata, ovvio no? Uno più uno. Quali sono le peculiarità di questo tipo di fisico? Il rettangolo, come dice la parola stessa, è un rettangolo, quindi cosa significa in termini di fisicità? Questo tipo di donne hanno delle belle spalle dritte, non larghe, però dritte, cioè non sono né spioventi né altro, delle belle spalle ci sono, infatti a volte magari pensano di essere dei triangoli invertiti per via di queste spalle, ma no. Seno, non tantissimo, diciamo da poco ha nella norma per il tipo di fisico, cioè non è di più. Punto vita, appena appena accennato, cioè proprio scendono dritte, fianchi sempre nella stessa linea immaginaria, pochi, sedere praticamente quasi piatto, polpacci questi sconosciuti, e quindi questo è una peculiarità delle donne rettangolo, specialmente nelle donne asiatiche, è che, a differenza di altre, la parte dell'interno coscia può essere un pelino più piena. Significa che rispetto a questo tipo di fisico, che comunque è tutto bene o male asciutto, le asiatiche tendono ad avere un po' più di coscia, ecco se vogliamo. Questo cambia qualcosa, in sostanza no, semplicemente quando si tratta di alcuni tipi di pantaloni o di jeans, magari ecco che ha la coscia un pelino più piena, vestiranno in una certa maniera, le altre no. Ma parliamo di un pieno sempre abbastanza relativo, cioè come dicevo anche per gli uomini, quando parlavo del rettangolo dicevo gli uomini asiatici. Siamo sempre nell'asciutto fondamentalmente, è un pieno, ma comunque è un asciutto, non è un pieno curvy, no. Comunque, la domanda che tutte vi state ponendo è, queste donne ingrassano o come le colonne, graziate da Dio anche loro? No, queste donne ingrassano e ingrassano anche in maniera abbastanza fastidiosa, nel senso che tutto il grasso va ad accumularsi nella pancia, mi dispiace, chi è il rettangolo può confermare, il grasso va ad accumularsi tutto nella fascia della pancia, quindi abbiamo delle manigliette dell'amore e la pancia fondamentalmente, sì, si vede, perché è un tipo di, si va ad accumulare in maniera uniforme, perlomeno, estesa su tutta la pancia, perché lo spiego, perché in alcuni tipi di fisico si può accumulare nella zona della pancia, ma magari un po' più centrale, cambia anche lì come la forma della pancia, ecco, in questo tipo di fisico è abbastanza esteso, prende tutta la superficie, così non vi preoccupate, non sembrate incinte, sembrate solamente grasse. Il mio tipo di fisico ne ha tante di più, avete solo la pancia, devo occuparvi, quella si camuffa facilmente, perché quello che va bene per questo tipo di fisico va bene a qualunque variante di peso, forma, quindi se siete asciutte ben venga, se avete un po' di pancetta non vi preoccupate, perché quello che, appunto, i tagli che vanno bene per il rettangolo vanno in realtà a camuffare, a coprire la pancia, nel caso ce ne fosse, quindi è un win-win alla fine, brave, 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 non solo vi sta bene tutto, ma quello che vi sta bene vi copre anche la pancia, brave, non vi vergognate. Comunque, cosa sta bene alle donne rettangolo? Intanto, anzi, vorrei aprire una piccola parentesi, perlomeno spiegarvi come capire, è sempre tutto preso alla larga, è una consulenza è meglio, perché comunque una può dire, ok, io credo di essere un rettangolo, un triangolo, un diamante, ma io quella che vi do sono dritte generiche, poi ogni caso è a sé stante, perché mi sono capitate clienti, ad esempio, che erano dei cerchi, delle famose cosiddette mele, però avevano delle spalle non proprio da mela, oppure dei triangoli invertiti che avevano delle spalle da cerchio, quindi un po' più spiove, ogni caso è diverso, ci sono sempre delle piccole varianti, perché non siamo fatti in fabbrica, quindi siamo tutti diversi, in questo caso, comunque, se volete avere un'idea più o meno, dite, ma come faccio a sapere se sono un rettangolo? Misuratevi le spalle, no, perché la vedete la riga, quindi che è quella che non vanno oltre, cioè siete tutte, vi fate una linea immaginaria, voi siete lì dentro, quindi a larghezza del busto, incluso di seno, la larghezza del punto vita, che spero sappiate come si misura il punto vita, dovrebbe più o meno girare su quelle stesse cifre, la larghezza dei fianchi, anche quella dovrebbe più o meno girare su quelle stesse cifre, se più o meno i centimetri sono proprio pochi di differenza, è molto probabile che siate un rettangolo, se avete dubbi, scrivetemi. Ma passiamo adesso a vestire queste donne, quello che io consiglio partiamo dall'alto, partiamo nei top, nei top vi consiglio dei belli scogli a V, sia leggeri che profondi, non vi preoccupate, potete permettervelo, delle scogli a barca, vanno molto bene, tipo questo più o meno ha un minimo a barca, ma io parlo proprio di barca barca vera, oppure vi stan bene dei top con il monospalla, vi stan bene le spalline sia larghe che strette, veramente potete scegliere di ogni, perché avete le spalle, quindi non c'è una preferenza, meglio la spallina stretta, meglio la spallina larga, quello che volete, quindi su, ripeto, barca, V, monospalla, spallina larga, spallina stretta, abbastanza, avete parecchia scelta. Pantaloni, anche lì io vi suggerirei intanto una cosa importante, il punto vita, la vita nei jeans e nei pantaloni, nel vostro caso l'ideale è prenderla bassa, perché come dicevo tendete ad avere un pelino di pancetta però estesa, quindi se li prendete a vita regolare vi va proprio a tagliare sulla pancia, rischiando di crearvi il rotolino, che non avreste altrimenti se non ci fosse un pantalone lì che vi spinge, a vita alta non va bene perché voi dovete andare a creare un punto vita e se lo create troppo in alto risultate, c'è un po' di sproporzione, quello che invece consiglio in genere, proprio per allungare il busto, per creare un po' più di proporzione, una vita bassa voi che potete scegliere, la gamba invece potete scegliere tra i due opposti, o super stretta o bella larga, baggy, nessun problema, dei pantaloni un po' scampanati, ci sono sempre i bootcut che andranno anche a crearvi un po' di fondo schiena, che non guasta mai, avete la scelta tra i boyfriend, i cargo, tutti questi jeans un po' relaxed, baggy, oppure appunto ci sono sempre i famosi skinny, che in genere proprio di fabbrica escono con la vita bassa, perché fondamentalmente sono stati pensati per voi, se li volete con le slavature preferite quelli magari con le slavature più in basso, visto che non avete polpacci perlomeno cerchiamo di camuffare in qualche modo, non so che mi state odiando, ma io vi odio di più, quindi questo video sarà il video del fastidio, ve lo beccate tutto, cioè non vi odio, sono un po' gelosa. Perché io non posso mettermi queste cose, cioè posso ma dopo sembro un elefante. Un'altra cosa che si può andare a guardare in top, ma in questo caso andiamo a parlare anche di vestiti, non solo gli scolli come vi ho detto, ma andate a guardare anche decorazioni, pattern, blocchi di colore, nel vostro caso giocano molto bene i blocchi di colore magari con i tagli orizzontali o le decorazioni tutto obliquo, quello che va un po' a tagliare, a spezzare questa simmetria va benissimo. Evitate invece magari gli abiti, quelli con la vita bassa, che sono quelli che scende l'abito e poi hanno tipo proprio bella marcata questa vita, a volte hanno il gonnellino sotto, quelli è meglio di no nel vostro caso, perché andrebbero ad allungare troppo il busto. Lasciate stare. Voi dovete comunque andare a creare delle forme, tra queste forme bisogna creare il punto vita. Quegli abiti lì si portano in genere senza cinture, senza niente, nel vostro caso avreste l'effetto contrario dei jeans a vita alta, lì avreste le gambe tutto gambe, qui avreste tutto busto e anche lì non è il caso. Quindi invece preferite degli spezzati, tagli di colore o proprio tagli fisici, abiti a portafoglio per esempio sono molto suggeriti, anche se lì fate un po' attenzione perché gli abiti a portafoglio vanno a ridurre ancora di più il seno, quindi se il vostro scopo è aumentarlo state un po' attente a come ve la gestite con questo tipo di abito, magari prendete una taglia in meno così si apre. Sorry, mi lascio andare ogni tanto, ma comunque bisogna provarle queste cose, io vedo le dritte poi quello che conta in realtà è la pratica, quindi provate tutti questi suggerimenti. Gonne van benissimo, va bene, minigonne che ve lo dico a fare, che van bene, le gonne a trapezio, le gonne a campana van molto bene, quello che io suggerisco in questo caso è tutto quello che va in basso, che non vada a superare la caviglia, non troppo lungo, perché altrimenti vi taglia un po' le gambe, quindi tutto altezza caviglia, anche un pelino sopra, non è un problema, tipo 7 ottavi, non avete idea di che cosa è 7 ottavi, questo è un 7 ottavi. Cos'altro dire, i tipi di scarpe suggerite di base, diciamo i modelli, al primo posto metterei o la ballerina o la décolleté, al primo posto, poi fate un po' quello che volete, se volete dare una parvenza quasi di polpaccio potete andare con le scarpe con le ankle boots, le scarpe, parliamo, non entriamo in termini topo tecnici, perché non so in quante sono pratici, le scarpe, quelle con tutti i laccetti davanti, con laccetto alla caviglia, quelle vanno tutte benissimo. Blazer, giacche, possibilmente fino al punto vita, non più lunghi, o comunque sia, se ve ne piace uno più lungo, che sia chancrato. Un tempo vi avrei sconsigliato, ad esempio, i blazer con un bottone, adesso in realtà posso anche consigliarveli, perché in tanti hanno iniziato a farli chancrati, quindi anche se hanno un bottone, tenendolo abbottonato, vi va a creare un punto vita, se li trovate a doppio petto è meglio, perché si fissano meglio sul vostro tipo di fisico, però corti, anche i bollerini proprio corti, quelli corti corti, altezza seno, van bene. Più corto è meglio, e voi andate tranquille così. Oppure di spolverini, io direi di non andate oltre metà coscia, sì, spolverini, giubbotti, cappotti, non oltre metà coscia, altrimenti diventa troppo lungo. Quello che invece bisogna assolutamente evitare, per non sembrare ancora più rettangoli, sono gli abiti comunque con delle linee rigide e già di per sé abbastanza dritti. Se è possibile, il tessuto e il modello lo permettono di mettere una cinturina anche tenuta larga, ma giusto per creare un punto vita, allora direi potete tentarvela, provate, altrimenti evitate che meglio. Evitate gli scolli troppo squadrati, gli scolli rotondi, io eviterei nel vostro caso, meglio quelli a V, avete bisogno di dare movimento. Evitate i top e le maglie troppo larghe. Allora, se sono oversize, si vede che è una maglia oversize, quindi in quel caso mettete un pantalone stretto sotto e va benissimo. Ma se è una maglia che ne so, una M, e voi nel frattempo siete dimagrite e indossate una X, una XS, ecco in quel caso non è oversize, è semplicemente largo e ve lo sconsiglio, perché come ho già detto, dobbiamo creare delle curve, quindi o andate stretto o andate oversize, come per i pantaloni, uguale. Quello che io in genere consiglio è, come ho già detto anche nell'uomo, se andate oversize, fatelo sopra e sotto, se andate stretto, fatelo sopra e sotto. Si può, nel vostro caso siete donne, quindi si può anche variare un pochino, perché sapete vestirvi meglio rispetto agli uomini, quindi potete anche avere un maglione oversize, magari con lo scollo bello a barca che va giù, lascia una spalla scoperta, mettendolo dentro i pantaloni, il famoso tuck, non il French, si voi potete fare anche il French tuck, il French tuck è quello dove metti una maglietta dentro, magari frontale, lasciandolo uscire fuori dai lati, nel vostro caso va bene perché vi va ad allargare i fianchi, o potete farlo laterale, quindi ad esempio, non lo so, abbiamo lo scollo della maglia che viene giù di qua, io il tuck lo farei dall'altro lato, proprio per creare asimmetria, lo so che non è una cosa che dico spesso, ma voi dovete creare asimmetria, gioca benissimo nel vostro caso, cos'altro dirvi? I pantaloni a palazzo evitateli, sia perché non vi starebbero benissimo, meglio nel vostro caso quelli svasati, cosa cambia? Andatevelo a guardare nel mio blog dove ve l'ho spiegato benissimo, poi vi metto il link nella descrizione, e i pantaloni, quelli che finiscono al polpaccio, quindi taglio culotto, ma anche semplicemente quelli alla pescatora, che finiscono proprio lì, di nuovo evitiamoli, e questo è quanto, ci sono un sacco di VIP con questo tipo di fisico, un sacco di modelle, quindi non sto manco a dirvi nomi, a sceglierevi una modella e guardate come si veste, è facile. Io mi interrompo qua, perché comunque non c'è da entrare troppo nel dettaglio, in quanto come dicevo vi sta bene un po' tutto, per qualsiasi dubbio, comunque motivo, io sotto vi metto anche il link del sito, andatevelo a riguardare lì, se ancora i dubbi persistono scrivetemi e io vi rispondo. Ci vediamo alla prossima, mettete un like, condividete o semplicemente passate parola, lo so che vi vergognate a condividere i video che parlano di moda, quindi passate parola alle vostre amiche magari. E basta, alla prossima, ciao!